la maratona sulla crisi di governo non poteva mancare soprattutto dopo che giuseppe conte è salito al quirinale per conferire con il presidente sergio mattarella enrico mentana sulla sette si è collegato con paolo celata che ha svelato un retroscena su presunte manovre in corso a palazzo madama ci sarebbe una controffensiva da parte del centrodestra dichiarato l'inviato del tg di la sette l'ex ministro gianmarco centinaio ha detto addirittura che alcuni senatori dell m5s sarebbero pronti a passare con la lega sarebbe un clamoroso ribaltamento mentana li ha sarcasticamente definiti gli irresponsabili gli anti responsabili certo noi abbiamo cercato di sentire chi stava nei 5 stelle e ora sta nella lega ha aggiunto celata e c'è molta prudenza su questo non ci hanno confermato però centinaio così ha detto insomma c'è un bel movimento in senato da una parte e dall'altra ha chiosato l'inviato di mentana una notizia se fosse vera che metterebbe in seria difficoltà a giuseppe conte a maggior ragione poi in senato dove i numeri sono più risicati il premier in caso di verifica della maggioranza in parlamento potrebbe infatti trovarsi scoperto ed essere costretto a lasciare spazio a un altro premier e un altro governo